nel basso medioevo in europa gli uomini erano profondamente religiosi ad eccezione di alcune zone della spagna che erano ancora dominate dagli arabi di religione musulmana tutti erano cristiani e la vita delle città e dei paesi era stabilita dalla chiesa le campane suonavano per richiamare i momenti del lavoro e della preghiera e anche durante l'anno le festività erano comunque sempre festività di carattere religioso l'uomo però si sa vive nel peccato anzi la società medievale era spesso violenta avida incline agli eccessi e ai comportamenti sbagliati e gli uomini che non riuscivano a resistere dal commettere peccati anche gravi poi avevano paura del giudizio di dio della sua punizione paura di andare all'inferno tra le fiamme eterne come si poteva fare per ottenere il perdono e purificarsi dai peccati un sistema molto praticato era la visita ad un santuario che custodiva una reliquia cos'è una reliquia una reliquia è un oggetto o addirittura una parte del corpo appartenuto a un santo o a maria o addirittura a gesù stesso e questo oggetto veniva custodito appunto in un santuario e i fedeli compivano viaggi anche molto lunghi per andare in questi santuari e chiedere il perdono dei peccati le reliquie col tempo diventarono oggetti preziosissimi e a onor del vero spesso anche fasulli venivano custoditi lembi del mantello di maria piume delle ali degli angeli insomma la gente nel medioevo credeva credeva a tutte queste cose e quindi queste reliquie avevano un successo enorme un altro sistema era quello di visitare uno dei luoghi santi come il santo sepolcro a gerusalemme il sepolcro di san pietro a roma o il santuario di santiago de compostela il credente si metteva in viaggio per fare questi pellegrinaggi di solito a piedi rinunciando a ciò che aveva e raggiungeva il santuario spesso impiegando anche mesi di cammino questa è un'immagine che rappresenta l'abbigliamento diciamo tipico del pellegrino il pellegrino aveva il bastone che lo aiutava nel cammino questa era la fiaschetta nella quale metteva l'acqua come vedi non aveva quasi nient'altro mantello cappello e poi dei simboli il più frequente dei quali era la conchiglia che ricordava un po una mano aperta simbolo di dare e di ricevere spesso i pellegrini prima di partire facevano testamento perché durante il viaggio potevano fare brutti incontri abbiamo detto che il viaggio era lungo e veniva fatto a piedi e sappiamo anche che i briganti in un modo in un altro erano sempre in agguato le fatiche e le difficoltà però erano sempre ben ripagate una volta a destinazione il pellegrino riceveva la soluzione per i suoi peccati alcuni addirittura facevano il pellegrinaggio negli ultimi anni della vita insomma durante la vecchiaia e poi si fermavano lì nei pressi del santuario sicuri che da quel momento in poi non avrebbero più peccato e quindi una volta morti la loro anima sarebbe andata direttamente in paradiso il peccato peggiore e soprattutto tra i più diffusi in questo periodo era proprio la violenza e la categoria di persone più violente erano i cavalieri cerchiamo di capire il perché un tempo i cavalieri giuravano fedeltà al proprio signore e si impegnavano a difendere i più deboli ti ricordi le varie cerimonie dell'investitura beh adesso le cose sono cambiate poiché l'eredità di un feudo era destinata solo al primogenito maschio gli altri fratelli cioè i cadetti venivano scacciati dal castello perché il primogenito aveva paura che questi potessero tramare per sottrargli i suoi possedimenti cosa succedeva a questi cadetti se trovavano un altro feudatario o un re che li prendeva a servizio svolgevano i loro compiti di cavalieri e tutto andava bene ma se non trovavano nessuno si riunivano in gruppi in bande e si procuravano da vivere razziando rubando e commettendo ogni sorta di violenza nei villaggi e anche nei monasteri che spesso erano luoghi di grandi ricchezze per mettere fine a tutto questo perché la chiesa era molto preoccupata i vescovi cercarono di obbligarli a un giuramento chiamato tregua di dio in pratica i cavalieri che avevano prestato questo giuramento non potevano fare razzie per più di tre giorni alla settimana non potevano commettere violenze durante la quaresima e nemmeno durante le feste religiose i cavalieri giuravano ma non succedeva nulla e continuavano tranquillamente la loro vita di violenza mentre la chiesa cercava soluzioni in spagna i feudatari cristiani si erano uniti con lo scopo di cacciare gli arabi dalla penisola che ancora dominavano venne applicata anche qui come già avevano fatto i musulmani il concetto di guerra santa questa guerra che venne chiamata reconquista perché stava proprio a significare la riconquista dei cristiani della penisola iberica riflettiamo un però guerra santa cioè in pratica una guerra voluta e combattuta in nome di dio è un concetto che sembra in contraddizione sono due parole in contraddizione tra di loro eppure tieni bene a questo avvenimento della reconquista perché avrà delle conseguenze molto importanti anche più avanti e in altre parti dell'europa e del medio oriente